Marco Ceribelli è amministratore delegato di Fanuc Italia, signor Ceribelli ci può indicare quali sono le principali novità che avete portato a questa Bimu del 2012? Allo stand abbiamo presenti tutti i modelli top di gamma della serie Fanuc, attualmente la produzione dei controlli numerici Fanuc, è arrivata la serie modello IB, tutti questi prodotti sono dalla serie 30, 31, 32, 35 e Power Motion IA. Una cosa su cui vorrei soffermare la vostra attenzione sono il modello Fanuc 35 che è definitivamente entrato in produzione, un modello semplice, economico, è dedicato all'automotive e alle macchine transfer e poi abbiamo il modello Power Motion IA che invece come dice la parola stessa è dedicato al settore del motion. Poi abbiamo portato in fiera un bellissimo simulatore che abbiamo realizzato assieme al nostro partner Rockwell dove abbiamo un PLC, un controllo numerico e un robot che dialogano tra di loro con un protocollo molto conosciuto che è l'Ethanet IP che è molto semplice da programmare ed è molto veloce ed affidabile. Questo per quanto riguarda il settore automotive è un qualcosa che ci permette di avere un prodotto completo e una linea diciamo che ha tutte le caratteristiche per soddisfare le richieste del mercato automotive.